essere felici herman s non esiste alcun dovere nella vita vi è solo il dovere dell'essere felici per questo solo noi siamo al mondo e con tutti i doveri e con tutta la morale e con tutti i comandamenti difficilmente ti si rende felici l'un l'altro perché non si rende felici se stessi se l'uomo può essere buono lo può essere solo se egli è felice se egli ha in se stesso armonia quindi se egli ama questo è stato l'insegnamento il solo insegnamento del mondo questo diceva Gesù questo diceva Buddha questo diceva Hegel per ognuno l'unica cosa importante al mondo è la la propria interiorità la propria anima la propria capacità di amare e queste sono in ordine si possono mangiare miglio o dolci portare stracci o gioielli allora il mondo risuonerà chiaramente con l'anima tutto è buono tutto è in ordine herman s Luzie a chi non lo ciao la councile a chi non pensare troppo Grazie a tutti.